buongiorno 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 ragazzi ore 4 e 48 è stata veramente una stagione lunga è un novembre sensazionale un novembre veramente unico che ci sta regalando grandi soddisfazioni ora siamo alla fine ora se non riparte qualcosa andiamo a vedere dai avanti 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 ci siamo ragazzi ci siamo ma allora c'è l'appuntamento ma la c'è l'appuntamento ma la c'è l'appuntamento e dove andai? non la trovai perché sennò non la trovai chissà che se non si fanno al vetro ora viene il freddo ma no le salute va a tu e di finire freddo tornerò dietro no non vero diceva mai non domandate ciao 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 arrivederci un po' d'acqua è venuta dai un po' è piovoso guardate che bello avanti 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 grazie si ammiglia incredibile davvero due macchine siamo appena entrati nel bosco e guardate qua guardate qua che bellezza ma che bellezza una piccettina avanti 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 sembra strano ma continuano a esserci funchi guarda se c'era gente mi sentivo parlare e vai mai mollare mai 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 un altro funghetto avanti 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 e qui c'era un altro ci sono pochi momenti che ti regalano soddisfazione piacere e gioia un'alba così in questo luogo dove solo qualche giorno fa più bello beva quant'acqua quant'acqua l'avete visto nel video precedente pazzesco oggi c'è veramente una bellissima giornata si vede l'alba laggiù in fondo guarda che bellezza avanti 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 ragazzi qui si vede benissimo perché si chiamano mazze di tamburo vedete sembra una mazza di un tamburo mi sembra vedere un fungo però mi sembra vedere un fungo ragazzi guardate il fungo c'è qui guardate il funghetto c'è qui accanto alla mazza di tamburo guardate cosa c'è qui e si continua a trovare i funghi in questo modo ragazzi guardate qua è bianco perfetto bellissimo mai mollare mai 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 con la mazza di tamburo e il porcino mazza di tamburo e guardate i funghi di nascita è come se il bosco continuasse incensantemente a buttarsi i funghi sembra impossibile e la gente per fortuna si è un po' diradata quindi ci sono meno persone e i funghi continuano a lasciare avanti 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 invisibili guardate così si nasconde un fungo vedete questo bello aperto c'è una fogliolina guardate e guardate il tondinello che c'è qui guardate che funghi ancora bianco e qui sotto che c'è ho e qui sotto abboccano sembrava è un cofanino e questo è stata una sfida ragazzi non è facile trovate trovare funghi oggi però guardate uno bello guardate com'è ancora super bianco un altro piccolino qua guardate i funghi ancora oggi ancora oggi a distanza di 15 giorni sono 15 giorni in questi boschi nascono i funghi si continuano a trovare avanti 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 passato mi sono girato e ho visto un super fungo ecco questi sono i funghi che che mi aspetto di trovare quindi già vecchiotti se non sono bagnati dalla troppa pioggia vengono fuori guardate qualche fungo bello questo è integro perfetto avanti 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 mai mollare ragazzi mai 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 un vecchio è uno di nascita proprio che continuano ancora a nascere guardate qua avanti 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 continuando così che ogni tanto ci si diverte da matti qui abbiamo il primo ovulo della giornata guardate qua il primo ovulo della giornata guardate qua guardate qua guardate qua il primo ovulo della giornata è faglio e qui sembra ci sono altri funghi ecco l'altro anche guardate è chiuso è un adattante amici diesem tempo importante agbro è quello orlando di qui ma spero giochino mamma mia mamma mia è una fugga bellissima bellissima bellissimo bello 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 forse più bello fino adesso avanti avanti matto guardate la natura ragazzi c'è un fungo bellissimo già maturo e guardate cosa c'è qui un altro funghetto di nascita ma vi rendete conto continuano a nascere incessantemente qui ci avevo trovato tre neri fantastici e nello stesso punto guardate cosa c'è guardate cosa c'è un po' mangiocchiato ma un bel fungo e qui sotto che ci sarà guardate va guardate va guardate va gualzate gli occhi guardate che c'è qua sotto queste macchie vedete le spine le spine però ci sono anche due uno ragazzi quattro funghi non sono non sono pochi non sono pochi quattro funghi insieme ma avessero detto che si trovava quattro funghi insieme forse non ci avrei creduto matto 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 piano 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 vedi guardate se l'ho nascosto un fungo ora l'ho aperto un pochino ma non si vedeva guardate il fungo che c'è qui se non fosse stato perché si conosce che qui ci abbiamo fatto guardate va perfetto perfetto avanti 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 E voi che fiorita di ovvi, guardate, guardate, due, tre, quattro, cinque, guardate per lì, mamma mia, da qualche giorno mi sarà un tappeto arancione, e va, guardate la bellezza di quest'albero con un parassita, una visarba tutta che lo avvolge e prima o poi è destinato a soccombere, peccato. Alcuna che ha tagliato, vedete, però, posso dire, non è andata male, se siete deboli di cuore, sedetevi, questi, ci sono due funghi, ma questi due funghi vanno, guardate, venite a scoprirli con me, ma guardate i funghi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, guardate qua, ma si è scherzato, che, che fosso, ma belli, sentite il campo, un fungo si vale la giornata, ragazzi, un fungo si vale la giornata, ma vi rendete molto i funghi? guardate qua, guardate qua che fuori, questi vengono la giornata, mai mollare, mai, 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 nemmeno davanti all'evidenza, perché poi cosa succede, arrivano loro e ti ripagano, avanti, 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 Funghi, Porcini e Passione, gruppo straordinario, guardate qua, guardate qua che fuori, mamma mia, quasi dispiace coglierlo, mamma mia, quasi dispiace, mamma mia, Ma ragazzi, se continuano a nascere i funghi così, veramente si arriva a Natale, oggi 20 gradi, un tempo fantastico, l'ultima volta si è preso tanta pioggia, ma oggi, guardate qua che fuori, Funghi belli, 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 e inattesi, avanti, 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 faccio vedere, guardate, c'è la muffa e guardate che funghi ci sono, Ma io, io, le domande di Dio, se ancora possono esserci funghi di nascita o sì, ma guardate la forza, la forza di questi funghi, la forza di questi funghi, Sono bellissimi, mamma mia, mamma mia, giornata strepitosa, inattesa, proprio inattesa, e più, guardate, guardate se non continuano a nascere, Pazzesco, pazzesco, e poi avanti, 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 mamma mia, c'è gente vicino, guardate che bellizza questa sughera, bellissima, E' eccezionale, bellissima, E' eccezionale, guardate, guardate, guardate che bellissima, guardate che bellissima, avanti, 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 Buongiorno, Non c'è nulla, non c'è nulla, e che c'è? Trovava qualcosa? No, non c'è nulla, ormai ci sono stati, ristati, ristati, e va bene, Vederci, Non ci sono, ragazzi, non ci sono, lo c'è, i funghi no, non ci sono, via, si vede e si va via e non ci sono fatti avanti, avanti, avanti si trovano, gli hanno detto i due non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla effettivamente, tanto no, però qualcosina ogni tanto si trova qualcosina ogni tanto si trova, mangiova lì lo vai davanti, 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 ragazzi, non ci sono, e non ci sono, e non ci sono, via, c'è poco da fare e non ci sono, davanti, 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 davanti ragazzi, la gente ce ne è quante più volete buongiorno, buongiorno ragazzi avanti, avanti, avanti ma che, poi si comincia ad essere lontanini, ecco qualcosina, dai ma come niente e ci sono bravi, bravi ragazzi a voi, ciao non ci sono funghi ragazzi più bellini ragazzi non ci sono funghi ragazzi, non ci sono, e non ci sono ma c'è qualcosa buongiorno tutto ripulito tutto ripulito mi hanno detto anche il tazzo e non hanno trattato nulla avanti, avanti, avanti non ci sono ma come si sta qui, alla grande ma come si sta, specialmente, io se posso vengo sopra è uguale ma come si sta, si fai che ci fai ma tu ne vio nessuno io sento gente, figli cambiano è uguale va ma che ha tu? come tu ti chiami? Parini Alessandro Parini Alessandro che è l'inverno quando c'è è finita, almeno me ci godo quanto è finita Pego e tu vedi? guarda ci avevo pensato se lo trovo glielo dico almeno a me tu mi fai un piacere perché c'è una bella pazienza potresti cercare fatevi pari a fare video quelle e quell'altro bravo ma se io smettessi di fare video invece da una gerla piena perché ora c'è una gerla piena e ne facevo due ecco infatti ci avevo pensato se lo vedo io lo vedo ma io mi diverto io cominciavo da piccino sono convito a minore essendo con il mio nonno è ancora tardi nella zona di Montalbano dovevo portarmi a scuola noi all'8 e mezzo mi finisci il lavoro grande Parini ciao in bocca al lupo avanti 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 parini di soddisfazione ci sarà a ricirare tutti questi funghi ragazzi ma guarda tutti ricirati tutti ricirati rispettate la natura se no i funghi non li troverete avanti 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 trovati e salutati tre ragazzi simpatici e poi Parini qualche fungo l'aveva però guardate qua si continua a trovare funghi di nascita guardatemi qui ma guardate qui il fungo c'è qua l'ascolto vedete c'è un po' di un po' di fraschettine si è salvato guardate il fungo guardate il fungo è questo mamma mia no guardate guardate qua guardate il fungo straordinario avanti 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 mai mollare mai 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 tanto ragazzi è un po' di funghetto guarda bello guarda bello sono tantissimi qualche buono di santo tutta via avanti avanti guarda bello e non ci sono funghi e non ci sono e non ci sono va bello senti come pucia mamma mia i funghi mamma mia i funghi guarda bello i funghi guarda bello i funghi ma guardate comunque i funghi ma guarda bello i funghi ma guardate foli i funghi giornata strepitosa gente non ce ne è tantissima infortuni ma c'è certa roba mamma mia avanti 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 ma venite a vedere i funghi c'è qui ma non ci sono la stessa frequenza dei giorni passati se ne trova uno qua e uno là ma guardate che bellezza di fungo è questo ma guardate che bellezza di fungo è questo ma guardate qua ma guardate qua mamma mia no 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 che gioia ragazzi e gioia che gioia trovare fungo in questo modo non ci sono fungo ragazzi non ci sono non ci sono non c'è nulla a fare non ci sono e non ci sono avanti 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 lunch time pausa pranzo ragazzi mai mollare mai 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 guardate alla pausa pranzo la situazione è questa quasi una cerra piena mamma mia che bello mamma mia che insalatina avanti 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 ragazzi si è in più da questa giornata guardate che spettacolo questa macchia mediterranea questo è l'habitat dove per due settimane quindi 15 giorni sono nati tanti fungo adesso siamo un po alla fine però guardate non è facile perché è abbastanza sporco in terra in un fungo si può anche riparare dentro a una pianta di fungisopo come è andata oggi allora io mi aspettavo di meno sono sincero mi aspettavo di meno una cinquantina di funghi guardate qua che bellezza ma la cosa più sorprendente la cosa più sorprendente è che ci sono funghi ci sono funghi di nascita bellissimi veramente funghi guardate i funghi sono questi guardate i funghi sono qui ma tutti buoni tutti veramente a parte qualcuno qui un po più vecchiotto ma il resto è tutto tutti i funghi molto molto belli quindi che dire bisogna tornare mai mollare canale youtube porcini e passione seguite il gruppo perché 30 mila iscritti siete fantastici siete fantastici che dire vi saluto con questo bellissimo fungo guardate questo è veramente qualcosa di incredibile guardate un fungo perfetto perfetto avanti avanti ragazzi mai mollare mai 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 vi aspetto sul canale e alla prossima uscita vai avanti avanti aspetta varese e mi dici avanti 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 la passione la passione la passione la passione dei funghi e vai ragazzi siamo prudente questa giornata veramente straordinaria guardate un po siamo al tramonto abbiamo incontrato la monica una ragazza di bologna che è venuta a cerca a funghi in toscana guardate va che bellezza mamma mia un saluto un saluto a tutti un saluto alla monica ciao ciao